E' sempre più critica la situazione della giunta Lubrano oggi alla guida della città. Sono le stesse forze di centrosinistra ad uscire allo scoperto e puntare il dito contro l'esecutivo cittadino. Non è chiaro cosa possa accadere nei prossimi giorni. Possibile l'uscita dalla maggioranza dei consiglieri della sinistra radicale. Per l'ex sindaco Ted è necessario aprire un tavolo di crisi per le emergenze che attraversa Alghero. Nella giornata di ieri è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio del giudice per le indagini preliminari Antonello Spanu riguardo alla vicenda del concorso di alcuni dirigenti che vede coinvolte le giunte di centrosinistra di provincia e comune di Sassari. Tra i nomi anche l'attuale presidente di SECA al Marino ma la presidente giudici nega che sia stato commesso qualsiasi reato. E' stato presentato lunedì sera presso lo spazio T di Via La Marmora il club magico di Alghero. Si tratta di un gruppo di persone, algheresi e non prestigiatori illusionisti che si sono volute riunire per dare sempre più spazio ad un'arte, quella della magia. A nostri microfoni il prestigiatore Barrago e il socio fondatore del club magico di Alghero, Fulvio Riu. Per lo sport, spazio al calcio, basket e allo judo. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Apriamo anche oggi l'edizione del nostro telegiornale con la politica. E' sempre più critica la situazione della giunta a Lubrano, oggi alla guida della città. Sono le stesse forze di centro-sinistra ad uscire allo scoperto e puntare il dito contro l'esecutivo cittadino. Non è chiaro cosa possa accadere nei prossimi giorni. Possibile l'uscita dalla maggioranza dei consiglieri della sinistra radicale. Per questo si vocifera di eventuali contatti con parti dell'opposizione. Ascoltate. Non possono che essere definite bordate quelle che il sindaco ha ricevuto stamane attraverso le pagine di un quotidiano regionale. Carlo Secchi, già primo cittadino a fine anni 90 e oggi consigliere regionale di sinistra, stronca senza mezzi termini l'azione dell'attuale giunta comunale. Amministrazione eletta da ricordare anche coi suoi voti e con quelli di tutto il centro-sinistra che aveva vinto le elezioni denunciando tra l'altro in maniera dura tutti quelli che vengono indicate come misfatti del centro-destra composto allora da quei partiti che oggi siedono all'opposizione. Dunque PDL, UDC, Riformatori Sardi e Pisdaz, colonne portanti dell'azione governativa delle giunte di Marco Tedde è perciò oggetto delle feroci critiche avviate in campagna elettorale confermate fino ai giorni nostri dalla puntuale azione di alcuni consiglieri e anche dallo stesso sindaco. E l'uscita repentina dell'onorevole Secchi, che mette a nudo chi oggi governa Alghiero, non è detto che abbia anche l'obiettivo di frenare eventuali inciuci, oltre che, come dice lui e anche altri suoi colleghi di coalizione, attuare immediatamente un rimpasto con anche l'inserimento di politici di rango, si era vociferato addirittura, dell'ingresso di Elea Svacca, Mario Bruno ed Enrico Daga, gli strali dell'ex primo cittadino paiono celare dunque anche questa seconda possibilità. Come abbiamo già detto negli scorsi giorni, sembra che ci siano stati contatti con componenti dell'UDC e forse anche dei riformatori, ma ripetiamo, siamo nel campo delle ipotesi anche perché, lo ribadiamo ancora, sarebbe piuttosto incomprensibile per gli algheresi vedere e condividere voto e provvedimenti da esponenti che si sono avversati fino all'altro giorno e che provengono da esperienze radicalmente diverse. Altro discorso avanzato in queste ore è che si apre un tavolo di crisi con anche le forze di opposizione, ma delle due l'una, qualsiasi cosa accada d'ora in poi, il percorso dell'attuale amministrazione sarà come un campo minato e le elezioni anticipate, secondo i ben informati, non sono un'ipotesi così remota. E sul tema, il PDL propone di attivare un tavolo di crisi per superare l'impasse e garantire delle risposte alle emergenze degli algheresi. Il capogruppo TED descrive anche la situazione, che non è certamente rosea. Il pesante attacco fatto dall'onorevole Carlo Secchi al sindaco Lubrano e alla giunta di sinistra alla guida della città, che va sommersi alle dimissioni del presidente di un gruppo di maggioranza, è la certificazione dello Stato precomatoso nei rapporti interni alla maggioranza. Interviene così l'ex sindaco di Alghero, Marco Tedde, sulla situazione politica cittadina. Ed è la clamorosa smentita delle voci che dall'interno della maggioranza di sinistra simulano artificiosamente un quadro del tutto differente. Dichiarazioni franche e coraggiose, che non lasciano margini a dubbi. Questa amministrazione è gravemente ammalata e rischia di creare danni irreparabili. Dire che questo esecutivo è totalmente inadeguato, la città è luride, mostra un'immagine decadente, la qualità dei servizi non è mai stata così bassa. Equivale a celebrare il de profundis dell'amministrazione Lubrano. Pur dall'opposizione riteniamo indispensabile ed urgente che il sindaco Lubrano attui una svolta vera in termini di uomini, ma anche in tema di modo di porsi nei confronti della città e delle forze politiche di maggioranza e opposizione che sono state votate per lavorare per Alghero. Le vere emergenze di Alghero, prosegue Tedde, che non sono i casting, la facoltà di architettura, il campo da rugby, la gestione del teatro, debbono essere affrontate con un piglio diverso. Le difficoltà economiche che attanaliano la città, la mancanza di lavoro, la tassazione delle imprese e delle famiglie alle stelle, la situazione disastrosa dell'igiene urbana e le criticità del Calic, la necessità di programmare lo sviluppo urbanistico col PUC, sono solo alcune delle vere priorità che oggi sono ai margini dell'azione dell'amministrazione, anche se sono al centro di documenti iscritti con l'inchiostro simpatico e diamene conversazioni fatte in giro per i quartieri. Occorre che il sindaco progetti un nuovo corso della politica algherese e che, partendo dalla drammaticità della situazione economica, chiami a raccolta tutte le forze politiche per lavorare assieme per superare questo difficile momento. È evidente che i consociativismi debbono stare fuori dalla porta e che l'opposizione deve continuare a fare opposizione in modo fermo e, se possibile, ancora più intransigente. Ma è altrettanto vero, chiude Tedde, che anche le forze di opposizione hanno le esperienze e le competenze per partecipare ad un vero e proprio tavolo di crisi e dare un contributo all'amministrazione e alla città. Le ultime disavventure politiche della maggioranza di sinistra, qualche inciampo giudiziario sul quale attendiamo con fiducia il risponso definitivo della magistratura e la totale paralisi dell'amministrazione Lubrano, stanno creando allarme nella nostra comunità. Interviene sulla situazione politica anche il circolo popolare europeo presieduto da Lina Bardino. La lotta fratricida per le poltrone, l'incapacità di programmare e di risolvere i problemi della città, l'assenza di una parvenza di promozione turistica e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale, coniugati all'aumento dell'Imu, stanno creando macerie, si legge ancora. È palpabile che la Giunta, anche rallentata dalle difficoltà della maggioranza, non ha la capacità di lavorare con l'impegno, la dedizione e i ritmi richiesti dalla crisi che attanaglia le imprese e le famiglie. L'operatività dell'amministrazione risente, peraltro, in modo pesante, scrivono ancora dell'assenza di un assessore all'ambiente in un momento in cui l'igiene urbana è allo sbando e soffre per l'impegno amministrativo part-time dell'assessore all'urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici e di quello lo sviluppo economico e programmazione che garantiscono una produttività a scartamento ridotto a causa della mancata richiesta di aspettativa ai loro datori di lavoro. La Giunta ha dimenticato il PUC, i lavori pubblici programmati e finanziati dalla precedente amministrazione procedono stancamente e si rischia di perdere i finanziamenti. Molti servizi amministrativi, chiudono dal circolo popolare europeo, stentano a trovare il loro passo migliore. Appello al sindaco Lubrano affinché superi questa situazione che altrimenti non può che dar vita ad ulteriori disagi alla comunità. E domani, giovedì 31 gennaio, alle 10.30 a Sant'Anne, il sindaco Stefano Lubrano e i componenti della Commissione elettorale, Valdo Di Nolfo, Mariano Melis e Leonardo Polo, terranno una conferenza stampa riguardante il sorteggio degli scrutatori per le imminenti elezioni politiche. saranno illustrati e chiariti i dettagli della nuova modalità di nomina decisa dal Consiglio Comunale. Nuove regole per la caccia, cambiamo quindi argomento, dal Comune di Alghero fanno sapere quelle che sono le nuove direttive a cui ci si deve attenere per esercitare lo sport venatorio. Con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente è stato emanato il calendario venatorio per la stagione 2012-2013. Unitamente a queste disposizioni riguardanti l'attività venatoria è stato adottato un nuovo foglio del tesserino regionale in sostituzione di quello attualmente in uso. I cacciatori sono obbligati a utilizzare il nuovo foglio a partire dalla stagione venatoria 2012-2013 e lo stesso dovrà essere richiesto e ritirato presso l'amministrazione comunale di residenza. Questo foglio dovrà essere ritirato ogni anno presso il Comune di Residenza, ogni foglio vale infatti per una stagione venatoria e riconsegnato allo stesso Comune entro il primo marzo di ogni anno, debitamente compilato in tutte le sue parti. Sempre entro lo stesso termine il cacciatore dovrà consegnare al proprio Comune, oltre all'originale del foglio cartaceo, il foglio elettronico editabile in formato Excel, scaricabile sia dal sito della Regione Sardegna che dal file contenuto in allegato all'avviso pubblicato a partire da oggi sul sito Internet del Comune di Alghero, su supporto CD o DVD non riscrivibile, riportante fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo. A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria alle quali potranno trasmettere alle amministrazioni comunali i file elettronici editabili in formato Excel, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata o ritardata consegna o di incompleta trascrizione dei dati in queste schede, sarà applicata la sanzione dell'articolo 74,5 della legge regionale 23 del 98. Il foglio del libretto venatorio è personale, non cedibile e se il cacciatore non va a caccia è comunque tenuto a riconsegnarlo nei termini di qui sopra il Comune, che lo ha rilasciato, barrando in tal caso, con una linea diagonale, le due pagine del foglio. In caso di deterioramento o smarrimento del foglio stesso, il cacciatore per ottenerne un duplicato deve rivolgersi sempre al Comune, che lo aveva precedentemente rilasciato, dimostrando di aver provveduto a farne denunce all'autorità di pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri. Per il Comune di Alghero i file elettronici in formato Excel potranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo chiocciolapec.comune.alghero.ss.it Il titolare di un'attività in via Leonardo da Vinci ieri ha voluto segnalare tramite Facebook, chiamando in causa anche noi, riguardo un nuovo disguido rispetto al servizio di igiene urbana, di nettezza urbana. Qualche parola resa pubblica indirizzata al sindaco per porre una domanda retorica. Lei andrebbe mai in un'attività commerciale dove non si riesce a parcheggiare e dove l'odore della spazzatura è così forte da non resistere. Questa è la situazione che si è presentata stamattina alle ore 7.45 in via Leonardo da Vinci. Come vediamo nelle foto, viene sempre spiegato dai titolari dell'attività che il cassonetto non veniva svuotato dal sabato, mentre le foto e la segnalazione erano relativi a lunedì. È stato interessato anche il consigliere di Nolfo, che ha poi chiamato l'azienda al fine di intervenire al propiesto per ripulire la zona e sistemare il disservizio. Rinvio a giudizio per un'importante fetta degli amministratori del centro-sinistra a guida di province e comune di Sassari, tra i nomi anche il presidente di Seca, il Salvatore Marino. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, Antonello Spanu, ha deciso di mandare a processo la presidente della provincia Alessandra Giudici e il sindaco di Sassari Gianfranco Ganau. L'accusa del pubblico ministero che viene contestata è quella di abuso d'ufficio. Per chi governava la provincia si aggiunge anche falso ideologico in atto pubblico. Tra questi, come detto, anche il presidente della Seca, il Salvatore Marino, allora assessore al lavoro della Giunta Giudici, oggi invece nominato dal sindaco Lubrano a capo della società che ad Alghero si occupa della raccolta dei tributi. Oltre a Marino sono stati rinviati a giudizio anche tutti i 21 componenti delle rispettive giunte comunale e provinciale che guidavano gli antisassarese di riferimento dal 2005 al 2010. La vicenda riguardo l'assunzione di alcuni dirigenti su cui ci fu il ricorso di alcuni esclusi dalla graduatoria che a quel tempo erano in mobilità. E in merito la presidente Giudici dice desidero ribadire la convinzione che si sia agito nel pieno rispetto delle leggi. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Grazie. Grazie. Grazie.